Operazione State al Sicuro è il progetto presentato dall'amministrazione comunale di Porto San Giorgio presso l'Associazione Marinai d'Italia, che vede in prima linea la FIFA Security in spiaggia di notte, grazie alla collaborazione tra Comune e Confcommercio. Forte l'esperienza vissuta l'anno scorso, quest'anno siamo partiti per tempo, tenendo conto anche dei finanziamenti, il cosiddetto fondone Covid che lo Stato ha messo a disposizione delle singole amministrazioni, abbiamo investito questi 30.000 euro per fronteggiare l'emergenza Covid, quindi evitare gli assembramenti e di conseguenza anche agire per la sicurezza affinché ci sia un controllo, un monitoraggio del territorio. Avere guardie giurate in spiaggia significa avere sicurezza, l'obiettivo è duplice, evitare gli assembramenti e far rispettare l'ordinanza che vieta l'accesso in spiaggia di notte. Il servizio, partito già il 7 agosto, è attivo tutti i giorni dal lunedì alla domenica, dalle ore 22 alle ore 4 del mattino. Come assessore alla sicurezza sono soddisfatto, anche perché i numeri ci stanno dando ragione per quel che riguarda i fenomeni che sono minori rispetto all'anno passato. La vocazione turistica della città di Porto San Giorgio ha previsto anche una vigilanza privata presso i concessionari balneari, ci saranno appunto delle guardie che vigileranno sui beni dei diversi stabilimenti. Questo progetto va assolutamente ad aiutare moltissimo l'attività produttiva, la vocazione turistica e commerciale. L'economia della nostra città si basa prevalentemente sugli stabilimenti balneari, quindi noi con questo intervento diamo una forte mano non solo a livello di anti-covid, a livello di sicurezza in generale, ma togliamo anche del lavoro, del tempo e della fatica ai concessionari stessi che possono quindi anche riposare nelle ore notturne attraverso questo servizio, essere un po' più sicuri e quindi lavorare con più serenità, con più forza, con più anche forza psicologica. Questo servizio che non è un'iniziativa estemporanea è stato pensato di concerto con la prefettura e la questura, quindi non in contrapposizione con le forze dell'ordine ma in sinergia con esse. Gli operatori svolgono un servizio che prima di tutto è un servizio di deterrenza. La sicurezza è tutto, anche informare correttamente le persone su cosa si può fare e su cosa invece non si può fare. Dal lunedì al venerdì sono quattro operatori e due guardie armate e nei giorni di sabato e domenica e quindi anche a ferragosto il 14 e il 15 saranno sei operatori e due guardie armate. Gli operatori sono muniti di torcia e di fischietto per già da una distanza invitare le persone a disgregare l'assembramento e quindi hanno tutte le attrezzature necessarie per comunicare anche tra di loro con la centrale operativa e richiedere eventualmente alla centrale operativa l'intervento delle forze dell'ordine. Grazie. Grazie.